Il 29 di aprile del 1980 scompariva Alfred Hitchcock. Sicuramente si tratta della figura artistica più riconoscibile insieme a quella di Topolino. E nonostante siano passati ben 40 anni dalla sua scomparsa, i suoi film, la sua tecnica e i suoi racconti per immagini non solo non sono passati di moda, ma continuano ad ispirare e ad influenzare i registi più disparati. E vorrei lasciare fuori i registi della Nouvelle Vague che lo hanno veramente scoperto, perché avevano una specie di adorazione per lui. Infatti uno dei migliori libri sul cinema di sempre è il Cinema secondo Hitchcock, la lunga intervista che Truffaut fece con Hitch, un vero e proprio manuale per chi ama questa arte, e poi Godard in anni più recenti che dichiarò, ad Hollywood solo due registi hanno fatto cinema coraggioso, Hitchcock e Jerry Lewis. È un caso infatti che registi contemporanei come Marty Scorsese, Steven Spielberg, il benemene Tim Burton oppure Wes Anderson e persino uno come l'austriaco ed estremamente eclettico come Michael Hattien citano Sir Alfred come fonte in alcuni casi della loro ispirazione? No, non è un caso, né dal punto di vista stilistico e nemmeno dal punto di vista tematico. Facciamo due esempi. La sensazione della vertigine che prova Scotty in vertigo salendo le scale del campanile con quella carrelata all'indietro e lo zoom in avanti rimane un esemplare insuperabile di invenzione tecnica. E il fatto, pur non nominando l'omosessualità nel superbo The Robe, Hitch inquadra sempre i due protagonisti Farley Granger e John Dull sempre nella stessa inquadratura. E a proposito di immagini, Alain René, facendo invece riferimento al suo capolavoro l'anno scorso a Marian Budd, già all'epoca diceva, a far vedere quello che succede nella testa di un uomo, il migliore esempio è l'immagine di James Stewart nella guida della sua macchina mentre sofferente sta inseguendo la doppia Kim Novaka nei suoi pellegrinaggi a San Francisco. Alfred Hitchcock amava il pubblico e voleva sorprenderlo. Ha sempre detto a Ingrid Bergman la sua attrice preferita, cara Ingrid, non importa se il tuo ruolo è quello di una piccola segretaria, tocca a te a renderlo importante. Ma la Bergman che voleva interpretare Giovanna d'Arco non lo ascoltò e scappò in Italia per lavorare con Rossellini. L'idea tereta invece Janet Leigh. In Psycho è una segretaria che scappando con i soldi di un cliente si imbatte al primo moderno serial killer dello schermo, Norman Bates. E sorpresa delle sorprese è la prima protagonista, oppure quella che noi, il pubblico, crediamo che sia la protagonista, muore nella prima mezz'ora del racconto filmico. Il pubblico fa la fila per vedere Psycho e nascono numerosi emuli. Il più importante è Brian De Palma. Basti vedere una pellicola che mi ha sconvolto la gioventù perché non conoscevo il trucco. Vestito per uccidere. De Palma infatti dirà per me Hitchcock è come una grammatica, cosa che non farà Dario Argento che ha voluto distinguersi da Hitchcock solo perché lui è anarchico ed Hitchcock è gesuita. Ma se studiamo attentamente la scena della morte di Marisa Fabri nei quattro mosche di veluto grigio scopriamo che deve molto atturnere ma anche come movimenti di macchina a Hitcho. La stessa cosa conferma Tom Hooper per la realizzazione del suo Non aprite quella porta. Psycho ha insegnato che fa più paura quello che non si vede piuttosto che quello che si vede. È difficile rendere omaggio ad un genio assoluto come Alfred Hitchcock. Più di 50 film con ognuno di essi qualcosa di cui parlare, almeno un dettaglio. La morte di Juanita in Topaz, l'assassinio di Gromek nel sipario stampato, usato persino dall'austero Chieslowski nell'episodio di non uccidere del suo decalogo, i calzini del cadavere di The Trouble with Harry, l'urlo di Doris Day nell'uomo che sapeva troppo, ma anche l'occhiolino che ci fa nell'ultima scena Barbara Harris nel complotto di famiglia che è come se lo facesse lo stesso Hitchcock nel suo testamento. Ma vorrei soffervarmi per ultimo non tanto al sottovalutato e imperialistico Marni, ma a quello che ha dato forse la più lunga scia di seguiti, imitazioni e parafrasi, creando un genere nuovo, quello della ecovenzanza, ossia gli uccelli. Senza motivo e con insolita rabbia gli uccelli attaccano il mondo. Prima una piccola comunità e il finale aperto lascia presagire il mondo intero. Da lì in poi corvi, animali scappati dagli giù, animali selvaggi come nel bello Day of the Animal, leoni impazziti, squalli, serpenti, lumacchie, ragni, verbi, grizzly e gli animali più svariati attaccano l'uomo. Ma le dimensioni non condano. Come non conta la qualità degli effetti? Hitchcock, utilizzando Ub Ivers, un ex Disney, crea gli uccelli quando attaccano con degli effetti animati che grazie alla velocità del montaggio, ancora oggi, risultano convincenti. Almeno una scena geniale, quella in cui Tibi Edren si affazza alla finestra del bar, scoppia la pomba di benzina, arrivano i pompieri con l'acqua e parte la soggettiva del gabbiano dall'alto. Una scena in cui fuoco, aria, acqua e terra coesistono. I quattro elementi si trovano tutti insieme, se questo non è apocalisse.